Va bene, ok, oggi ne parlo. Sono due giorni che ve lo state chiedendo, ho cercato di evitare l'argomento soltanto ed esclusivamente per cercare di capire sul campo cosa non sta funzionando, cosa non sta andando, ma bisogna parlarne. Ma prima io avrei una domanda da fare, una semplicissima domanda e spero che tutti quanti voi mi diate una risposta. Cosa abbiamo fatto noi milanisti per meritarci tutto questo? Ditemi cosa abbiamo fatto per meritarci questa agonia dopo tre giornate. Abbiamo una classifica da zona retrocessione, abbiamo una società imbarazzante che pensa soltanto ai suoi interessi, abbiamo dei dirigenti inesistenti dei fantasmi, abbiamo un allenatore che dopo tre giornate non ha dato nessun tipo di gioco a questa squadra e ha creato soltanto confusione sia tattica che dentro o fuori dal campo. Un allenatore che si è già messo contro lo spogliatoio e i big dello spogliatoio. Abbiamo i due top player della squadra che sono due bambini di merda viziati che non sanno neanche che cosa sia il professionismo e non sanno neanche che cosa voglia dire rispetto per la maglia e per i tifosi. Tifosi che sono lì allo stadio e pagano il biglietto, tifosi che sono a casa e pagano gli abbonamenti vergognotti di Dazon, Sky e compagnia bella, che per vedersi le partite ormai devi fare il mutuo a casa. E io devo vedere tutto questo dopo tre giornate. Cosa ho fatto? di male. Cosa abbiamo fatto di male? Nessuno rispetta più il Milan. E questo parte tutto dal vertice, dalla punta, dalla società che è una società che non c'entra niente con il calcio, non hanno passione, non hanno voglia e non hanno neanche regole. Hanno lasciato tutto in mano a Zlatan Ibraimovic. Società imbarazzante, dirigenti inesistenti. Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dov'è in questo momento Ibraimovic? Doveva stare nel post partita a parlare e a difendere la sua scelta. Difendete la vostra scelta. Furliani e Moncala non parlano mai, non esistono. Allora chi parla? Ibraimovic solo con conferenze stampa organizzate, con domande dei lecchini di merda? Solo questo fa Ibraimovic? Domande organizzate con risposte per fare lo show? Dove sta nel difendere la loro scelta? Che io so già che Fonseca non è stata mai la scelta di Zlatan Ibraimovic. Ma ci hai messo la faccia, hai detto che andava bene per il Milan e adesso ti prendi le responsabilità perché adesso c'hai solo insulti e non ci stai mettendo manco più la faccia. Dove siete? E questo, quando si crea tutto questo caos, perché si crea? Perché alla base non c'è nessuno e come alla scuola che nell'ora in cui non c'è nessuno non mandano manco il bidello qui. La classe può fare quello che vuole e allora c'è un bordello. Nessuno sta tutelando in questo momento Fonseca. E i giocatori che non sono dei professionisti, ripeto, sono dei bambini viziati ma non l'abbiamo capito nel cooling break di Lazio-Mina. L'abbiamo già capito in Parma-Milan quando camminavano in mezzo al campo. Già lì c'è la mancanza di professionismo. È nata lì, non è nata nel cooling break. È nata prima. Perché se arriva l'allenatore a sbattervi in panchina e vabbè, per Leao lo possiamo anche capire perché comunque i sostituti ci sarebbero anche, ma addirittura per Teo Hernandez fa giocare Terracciano. È proprio una punizione e non mi venite a pigliare per il culo dopo cercando di smentire o di smontare il caso come Fonseca che dice no, non è una punizione. Hai fatto giocare Terracciano, è una punizione per noi tifosi. Per noi tifosi è una punizione. Oppure quell'altro Teo Hernandez. Eh, la gente parla, la gente non sa. Ma cosa non sa? Ma che ce l'hai preso? Per rincoglioniti? Ma ce l'avete preso veramente per stupidi? Non basta la figura di merda che avete fatto e che ci avete fatto fare a noi. Perché poi a noi ci pigliano per il culo. Una situazione vergognosa e imbarazzante. Vi hanno anche chiamato. Non dite puttanate. No, vabbè, ma erano appena entrati, non servivano le cose delle scelte dell'allenatore e non dovevano stare lì. Non dovevate stare lì. Vi hanno chiamato, mi hanno detto venite che state a fare una figura di merda. Siete rimasti lì, volevate lanciare il super segnale, super cazzuti e poi nell'intervista vi siete cagati in mano perché sapete che vi fanno un bucio di culo così, che vi tolgono i soldi. Perché questa è l'unica cosa per cui Teo Hernandez e Leao possano correre in campo. Sono i soldi, sono i soldi. Non gliene fotte un cazzo né del Mila, né dei tifosi, né di niente. Quindi la prossima volta che Leao o Teo Hernandez metteranno dei cuoricini rossi e neri. Sputateli in faccia! Fate professionisti e basta! Vi chiediamo quello. Fanno pure quelli attaccati alla maglia. Fate almeno i professionisti. Teo Hernandez anche capitano. Ma come vi permettete? Non rispettate l'allenatore, lo posso capire in pieno. Su quello vi do ragione, non lo rispettere neanche uno come Fonseca. Ma rispettate la maglia, rispettate i tifosi, rispettate la storia di questa società, di questo team. Perché la società cardinale e cose varie, questi tra un anno, due anni, tra un anno e via non c'entrano niente con il Mila. Sono di passaggio. Sono delle macchiette nella storia del Mila. Ma il Milan, la storia non la cambierà mai nessuno e voi la dovete rispettare. Poi nello spogliatoio potete dire quello che volete a Fonseca. Perché potete anche non rispettarlo, potete anche non rispettare la sua scelta. E va bene, avete tutto il diritto di farlo. Ma queste cose plateali, a umiliare tutti quanti i tifosi e poi cagarvi in mano e dire addirittura eh ma questi qua la pensano male. E non ci siamo proprio belli miei, non ci siamo proprio. E parliamo anche di Fonseca con le sue scelte imbarazzanti. Perché su Leo l'abbiamo detto, puoi anche sostituirlo Leo perché comunque c'è la contropartita da mettere. Ma Teo non lo puoi sostituire in questo momento. Parlaci, parlaci. E questa la bravura di una società, di una dirigenza, di un allenatore. Quando hai dei giocatori così, che hanno tutte le colpe del mondo, è perché per me i calciatori in questo momento sono i primi responsabili. Ma tutto parte sempre da lì. Parte sempre da lì. Perché se non c'è un'organizzazione, se non c'è una credibilità, non c'è nulla. Non sono stati neanche in grado di confermare Fonseca. Non si sa che cosa prenderanno. Avete lasciato i giornali parlare di un nuovo già allenatore. C'è Fonseca già con le spalle al muro. Non state difendendo neanche la vostra scelta. È normale che i calciatori si sentino in diritto di poter fare quello che vogliono. I calciatori comunque, ripeto, stanno sbagliando perché potete non rispettare questa società. Potete non rispettare quest'allenatore. Ma dovete rispettare noi tifosi. E io non posso vedere una scena del genere di due bambini che fanno le proteste. Non posso vederla nel professionismo. Andate. Andate lì. Poi magari andate un faccia a faccia per cazzi vostri nello spogliatoio. Ma non ste robe plateali. Non le posso sopportare. E' una vergogna. Una vergogna. Una vergogna. Non solo quello che abbiamo visto a Parma. Invece di sentire delle scuse. Vedere persone che chiedono scusa. Abbiamo visto delle persone che pensano di non aver sbagliato nulla. Pensano di non meritarsi quella panchina. Che ripeto. Teo. Solo perché ci abbiamo Terracciano. Anche lì. Dov'è il vice Teo Hernandez. Dov'è sto mercato completo? Ibrahimović. Dov'è il mercato completo? Dov'è? Che se non gioco a Teo Hernandez gioca a Terracciano. Dov'è? Cazzo l'avete scelto? Sto Emerson Royal. Che devo dare ragione alle persone che dicevano che era una merda. Due partite in una azzeccata mezza. Dov'è sto mercato stellare? Dov'è che avete coperto tutti i ruoli? L'allenatore non può neanche fare queste scelte da bambino perché alla fine poi si trova a giocare con Terracciano in campo. Ma state scherzando? Ma questa non è una punizione per loro. Questa è una punizione per noi. Per noi. Che dopo tre giornate il campionato è finito. Quest'anno lotteremo se per arrivare in Champions League. Ma lottateci voi che a me già mi è passata la voglia. Invece di fare dei passi in avanti facciamo sempre dei passi indietro e vedo anche gente che li sta bene. Vi è andata bene per tutta l'estate questa pagliacciata. Questo circo. Questo clown che va in conferenza stampa andare avanti a parlare di slogan ma non capisce un cazzo. Non sa niente. Quando gli fanno una domanda tattica la butta in cacciara perché non sa neanche che cosa rispondere. Non ha scelto l'allenatore. Non ha scelto il mercato. Non ha le competenze neanche per farlo. E a voi vi stava bene? Tutti gasati per gli slogan da quattro soldi. Ecco dove ci siamo ritrovati con gli slogan da quattro soldi. E Fonseca probabilmente è il meno colpevole di tutti lì in mezzo. Anche se ripeto anche lui è scarso. Fa schifo come allenatore e come gestione della rosa è una merda. È una merda. Perché invece di fare le punizioni e metterle in panchina dovevi parlarci. Dovevi farli sentire importanti. Dovevi convincerli a correre. E questa è la bravura. Non mantenerli in panchina e fare la guerra. La guerra chi la stai facendo? La stai facendo a noi tifosi che abbiamo due punti in tre partite. Perché anche questo i giocatori hanno tutte le colpe del mondo ma anche l'allenatore non le ha saputi gestire. Se arriviamo alla terza giornata con una polveriera nello spogliatoio e perché non le hai saputi gestire? Non ti rispettano? Pensi di guadagnare il loro rispetto così? Beh io non credo tu abbia guadagnato molto. Cerca di parlarci. Cerca di metterli al centro del gruppo. Le punizioni va in panchina. Quelli che non vengono. Ma che cazzo ci state facendo vedere? Che qui non se ne salva mezza cosa. Niente. Non puoi salvare niente. In ogni società salvi una cosa. Qui non possiamo salvare niente. Società, dirigenza, allenatore dei giocatori. Non possiamo salvare nulla. 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 Alla terza giornata. Siamo così. E quelli che dicono che vogliono di nuovo Pioli. La soluzione sarebbe far tornare Pioli. Ma io quest'anno veramente. Ogni anno devo comprare una telecamera nuova perché ne spaccherò una partita. Cioè seriamente. Invece di dire ragazzi mettiamo un punto. Cerchiamo di sistemare la situazione e capire. Uno chiede scusa. L'altro chiede scusa e andiamo avanti. No. Qui nessuno parla. Fonseca ha lasciato completamente solo quei due codardi che fanno le interviste e dicono. No. Ma siete voi che capite male? Che ci pegliano pure per il culo? Una situazione vergognosa. Meno male che c'è la pausa. Io ho sempre odiato le pause delle nazionali. Questa volta devo ringraziare che c'è la pausa delle nazionali perché io non riesco più a guardarvi. Non riesco più a vedervi. Non riesco più neanche soltanto a considerare Teo Hernandez adesso il capitano del Milan. Leao che fa sempre quello che cazzo vuole. Senza rispetto per nessuno. Vergognatevi e chiedete scusa. Non avete frainteso la gente parla. Chiedete scusa. Chiedete scusa. Non volete chiedere scusa a Fonseca. Chiedete scusa ai vostri compagni perché avete mancato di rispetto anche ai vostri compagni. Ma soprattutto chiedete scusa a noi tifosi per una scena vergognosa dell'asilo. Gente che prende 8 milioni di euro. Imbarazzanti. Imbarazzanti. E poi fanno l'azione e fanno il gol tutti incazzati come se state facendo qualcosa di più. E quello è il vostro mestiere. Non state facendo niente di troppo. Il gol che avete fatto è il minimo. È il vostro mestiere. È come dire a un idraulico. Deve andare lì tutto orgoglioso perché ha sistemato un tubo. È il suo mestiere. E il vostro mestiere è quello di giocare a calcio. Di correre. Di fare gol. Ma che cazzo avete fatto? Un gol di merda. Tutti lì. Gasati. Oh. Svegliatevi. Svegliatevi tutti.